Epistola di Giuda Giuda, servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, misericordia e pace e carità vi siano moltiplicate. Di letti, ponendo io ogni studio nello scrivervi della nostra comune salvazione, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi. Poiché si sono intrusi tra noi certi uomini, per i quali già abantico è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi, che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. E che Egli ha serbato in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del grande giorno, gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di Costoro, ed essendo andate dietro a vizi contro natura, sono poste come un esempio, portando la pena di un fuoco eterno. E ciò nonostante, anche Costoro, nello stesso modo, trasognati, mentre contaminano la carne, disprezzano l'autorità e dicono male della dignità. Invece l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro a lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Ma Costoro dicono male di tutte le cose che non sanno, e in quelle che sanno per natura come le bestie senza ragione si corrompono. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino, e per amore di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam, e sono periti per la ribellione di Core. Costoro sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. Nuvole senza acqua portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Per loro pure profetizzò Enoch, il settimo da Adamo, dicendo, ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriade per fare giudizio contro tutti, e per convincere tutti gli empi di tutte le opere d'impietà che hanno empiamente commesse, e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno proferiti contro di Lui. Costoro sono mormoratori, querimoniosi, camminano secondo le loro concupiscenze, la loro bocca proferisce cose sopramodo gonfie, e circondano di ammirazione le persone per motivi interessati. Ma voi, diletti, ricordatevi delle parole dette innanzi dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Come essi vi dicevano, negli ultimi tempi vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie concupiscenze. Costoro sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. Ma voi, diletti, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per avere la vita eterna. E abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste macchiata dalla carne. Ora, a colui che è potente da preservarvi da ogni caduta, e da farvi comparire davanti alla sua gloria, irreprensibili, con giubilo, all'I Dio unico, salvatore nostro, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potestà, da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen.